Franciacorta insieme, super ticket è semplicemente la volontà di prostituire nella direzione che avevamo annunciato fin dall'inizio della legislatura e cioè quella di cercare di migliorare i servizi e riporre il peso fiscale e i costi per i nostri cittadini. Questo è sicuramente qualcosa di significativo e si deve mettere insieme a tutti quegli altri interventi dall'IRAP per i centri storici che è stata inclinata all'appliamento del Brasilinido, tutte le iniziative che in questo anno e mezzo abbiamo contribuito a portare avanti e che continuiamo a portare avanti. Abbiamo tolto pagare l'affitto agli ultrasettantenni, hanno sempre mantenuto i loro impegni nei confronti di Haller, insomma sono tanti piccoli grandi segnali che vanno nella direzione di voler cercare di essere un'amministrazione che mette in difficoltà i cittadini.